c'è qualche albero caduto qua e là proprio traia e oggi ma trial guardate il checco di terpino da lì sapecate bravo l'ho detto che ce l'hanno da fare qua ostia che vento è freddo che ce l'hanno da fare qua ah è un tipo che è, ma è venuto in mente dopo era buono, era buono va lo checo oh 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 ah 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 ma ti vuoi provare lo stesso? eh sì dai! avventura dai! non troviamo manco di cammino non troviamo neanche di trai secondo me da quello che c'è eh? ma che c'era le ferie lì eh! caccio! non mi hai giugato molto lontano qua abbiamo il primo video fantasy love tunnel love ah no vai la pulire anche qua adesso vieni avanti ecco bravo ecco bravo nooo eh appunto è ormai eh ho capito che non vuole essere lì eh 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 ecco 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 non è manco solita ecco 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 che lec3 porca troia sono andato passando la perché sono trovato stacca perché di armo però niente tunnel over che no alla giù la deviamo perché ha guardato apposta prima ma io che tutti gli armi che coppia è appunto è nulla e attraverso non è che volevo tagliare, non lo sapevo, non l'ho proprio vista è lì, non vuoi stare lì, no? ho fatto fatica, bella, cazzo hai tanta fatica eh, caccheriamoci un filo di piazzio è buono, piccolo è buono ecco, ricordiamo se c'è il tipe, non vedo non mi devo ricordare, eccoci ecco, ecco ecco, ecco ecco, ecco ecco, andiamo a andare ecco, vediamo c'è un otto ecco che,... ecco, come se ci vuoi? Fai vedere ai miei youtuber, vai Checo, tanto la spartola lì, dai, un tocchetto, dai, freestyle, vai Checo, fai vedere un tocchetto, Checo Vai Checo, fai un po', checo, altro che male Checo, fai, ferma, sei assurdo, sei assurdo, sei assurdo, sei assurdo, hai visto quando ti mette noi cosa succede Ehi, 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 non se ne varenghi Fai, fai, fai Pupupupupupupupus Un channel, Checo 28 Il vedere oggi, checo, tanta roba oggi è il checo oh 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 non avremmo cadere lì, qualche troia fregarlo beh io anche è il checo ma io credo che ecco e poi se li avevo toccati bene è che depur ti mangiare ai sau per così ciao ma ora è giusto su lì? si è giusto è giusto questo? e dove? perallo perallo si va bene bravo grazie la settimana devi sentire devi sentire eccolo 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 si 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 dai ok ecco dai ok ecco oh ti sei fatto male? si si porca malatosca che stringa no ti hai fatto male? si c'è un casco brutto eh sanguono sciolto per oggi non c'hai fatto male